Maggiorini, l'1-2 con Kutuzov, il Pielorusso si allunga il pallone, Maggiorini, il gol! Il raddoppio del Bari, 24 minuti nel secondo tempo, il primo gol in A di Riccardo Maggiorini. Esplode il San Nicola per il battesimo del gol in Serie A per l'attaccante appena entrato in campo. Un ingresso plug and play per lui. Allora ancora Bari, ancora Almiron dentro, anticipo di Cannavaro. Che taglia fuori il barretto, poi il colpo di testa di Molinaro, non un granché. Almiron cerca di servire Maggiorini, la palla si impenna, il sinistro è il gol! Incredibile! Al settimo minuto di gioco, il Bari è in vantaggio! Incredibile San Nicola! Ha segnato Ricchi Maggiorini! Ed il resto quando piove qualcuno suol dire grandina. Guardate quest'azione, Almiron! Attenzione, posizione per regolare! Attenzione! Valretto, la del mezzo e la del mezzo! E la segno! Il Bari, il Bari è in vantaggio! Almiron, Belmonte, pensa al cross, che arriva al basso. Palla che è buona, Maggiorini! Maggiorini! E il gol dell'1-1! Incredibile! Si è trovato lì il pallone! È il primo vero giocabile! E ha fatto gol! Che errore di Accardi! Si libera di Mesto, attenzione! Prova il taglio verticale Maggiorini, area di rigore, la conclusione, il gol! 12 minuti nella ripresa, la rete di Riccardo Maggiorini, tornato dal primo minuto, si premia con un gol. Quello dell'1-0 per il Bari, quinto centro in campionato per Riccardo Maggiorini, con la maglia bianco-rossa, esplode la curva nord alla San Nicola, il Bari è in vantaggio.